Salve a tutti, buongiorno ragazzi, stiamo andando alla fiera del Man Games, ci siamo alzati abbastanza presto, alle nove e mezza, e niente, ora la fiera aprirà alle dieci, ma noi siamo già in ita, perché sono le 11.90, ma non ci interessa, perché comunque alle 11 è l'incontro ufficiale con il YouTube, a che una ora dovrebbe essere apertura, ora c'è l'apertura, e niente, se vediamo qualcosa di interessante, continuiamo il video, siamo nella pausa pranzo, l'incenzo è un po' scazzato, e niente, camminiamo un po', facciamo vedere cosa c'è, qua c'è il palco, a destra ci sono gli stand, Lo stand è quei, dell'action figure, qui ci sono, sì, là ci sta invece la zona retro gaming, qua ci sono gli youtuber, sì, i deck di Yu-Gi-Oh, le carte di Yu-Gi-Oh. Ragazzi, ecco qua, un piccolo aggiornamento, stavamo per partecipare al torneo di carte di Yu-Gi-Oh, però ci hanno offesi, hanno detto che le carte che avevamo comprato dei marocchini sulla spiaggia sono false, E quindi, comunque abbiamo fatto una cosa bella, abbiamo fatto il nuovo, abbiamo preparato un autoritratto, Sì, il nuovo logo per il nostro canale, insomma, poi abbiamo stretto amicizie con disegnatori, Abbiamo conosciuto i nirchiop, abbiamo conosciuto i nirchiop, c'erano anche, parliamo di videogiochi, però erano un po', Un po' occupati, sono mangiando, eccetera, e mo' torniamo perché Vincenzo ha esigenze. No, no, non sono esigenze, ho un po' di febbre, un po' di febbre, quindi dovresti andare a coprirmi il culo e... Dovrei prendere un po' di Pokémon. Un po' di Beltazor, un po' per la mattina, un po' per la sera e quindi... Mi devo riprendere. Torneremo domani, abbiamo fatto un po' di... Non so neanche se vivremo domani, perché... Un po' di acquisti, vediamo, vediamo, vediamo. Anzi, vedo un cazzo. Ma lo faccio vedere io. Il tazzone di Star Wars. Il tazzone di Star Wars, volevo quella di Darth Vener, però se la sono rubata. Quella di Darth Vener, l'hanno rubata e... Ma no, puzza di merda, e cazzo. Il tazzone, effettivamente puzza di merda. Non la userò mai per bere il latte. Mi sa tanto che ci dovresti mettere i cioccolatini dentro e lasciarli. Quasi puzzano di merda pure i cioccolati. E li offri ai parenti. Mettemi in busta che è puzza. È ok. Puzza. Sì, sì, infatti puzza, ma secondo me è umido. Ah, era in cellofana. Sì. Ho capito. Vabbè. Perfetto, ok. Ci aggiorniamo, ciao. Ciao.